come si dice in brianza fat boy 120esimo anniversario come promesso in pronta consegna la numero 817 su 3000 prodotte non ne arrivano più è una moto contatissima bellissima ricercatissima vi aspetto in Harley Davidson Monza è qua in pronta consegna se volete prenderla per le ferie guardate che bella 114 4 valore per cilindro 1868 uno spettacolo ne approfitto per salutare il dottor Giordano e i bimbi dell'ospedale che mi seguono sempre forza ragazzi seguitemi che vi faccio vedere sempre delle belle motorette vi aspetto in concessionaria ripeto fat boy 120esimo anniversario pronta consegna chi prima arriva meglio alloggia a presto ciao ragazzi grazie